bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video vi chiedo scusa per l'inattività che c'è stata recentemente sul mio canale e ho dovuto cioè ho dovuto fare delle robe quindi sono stato ben attivo ho riavuto il pc quindi e questo spiega anche il perché non ho fatto video perché siccome ho avuto il pc ho preferito star fermo ho detto vabbè ma mi sistemo il pc perché è un pc di merda quindi devo sistemarlo tutte queste cose qua e allora qual è lo scopo di questo video ragazzi non fate caso a naruto l'ho messo tanto per mettere un gioco in sottofondo perché non mi va di fa quei commenta di dove tu non fai un cazzo e parli e parli e parli e praticamente allora c'è delle enormi enormi novità sul canale quello del clan che di cui avevo parlato perché negli scorsi video l'ho accennato a un clan di mia proprietà chiamato trinity undead e praticamente questo qua ora il proprio canale che sarebbe il vecchio canale del clan xmsr gaming magari a qualcuno eppure familiare e niente ragazzi i trinity useranno questo canale qui e io già ho configurato il canale già ho messo la grafica l'avata tutte quelle cose lì ho aggiornato le impostazioni c'è anche il roster e come ho detto nei discorsi video avrei fatto un clan verso ottobre o novembre e questa è la conferma appunto cioè questo video è proprio per confermare quindi che ufficializzare la cosa che a novembre il clan trinity undead inizia ufficialmente a fare video allora ho lasciato nella descrizione di questo video il link del canale dei trinity che sarebbe il canale di xmsr quindi non fateci caso al link che è rimasto xmsr gaming youtube youtube.com user channel e c'è xmsr gaming non ci fate caso perché il link purtroppo del canale xmsr è già stato cambiato una volta quindi purtroppo non lo posso ricambiare e deve rimanere xmsr gaming però comunque dei trinity l'ho lasciato nella descrizione del video se volete fateci un salto magari vi iscrivete e presto caricherò un video anche su quel canale riguardante la cosa di iniziare a fare video a novembre perché devo anche scriverò lì purtroppo quel canale così come il mio il mio principale aveva non è un purtroppo aveva scritti cioè il 90 per cento ozzi di più erano tutti gli inglesi perché xmsr era un fan da montaggi alla ottica quindi reclutavamo solo inglesi che siete qui e quindi dobbiamo un po' ricostruirlo da zero anche se c'è 3.000 iscritti però 3.600 iscritti meglio di niente come partendo per un quale a me fa più che bene sinceramente comunque aspettate che ha rosto tipo con la ulti e comunque l'altra novità di questo video è che allora il clan ok arriva a novembre però rivedremo iniziando con un gran bel gioco che sarà architura dell'evolver sempre se microsoft permettendo se non ci metto lo zampino rovinando tutto l'uscita perché anche la sony che è andata da rompi i coglioni sul slasso di mod per tutte le varie sulla ps4 così come è stato per fallout e le ridizioni le matte di skyrim e le ridizioni le mod e quindi spero che non facciamo io ho pensato che sarà stata colpa di microsoft dietro le quinte avrà fatto una boiata con un accordo con l'abetezio per uscire molte ps4 proprio per pubblici pubblicizzare la xbox la shitbox one e quindi spero che non faccio la stessa cosa con arc perché sarà un grande gioco e comunque inizieremo con quello lì inizieremo quindi con arc survival evolved noi reclutiamo per arc survival evolved per essere reclutati io ho una community sulla ps4 psn chiamata trinity undead friends and others che sarebbe cioè poi basta che mi aggiungi dalla lista amici dell'account di gestraggio mi aggiungi tanto della mia comunità e troverete due comunità di trinity una ci sono solo i leader che sono qui perché appunto abbiamo dei manager di tutto spettacolo come ovviamente in quella community lì o che non si può entrare o che chiusa è solo per i manager e leader poi c'è un'altra community che è un open space ovviamente praticamente se voi vi aggiungete entrate in quella community scrivete che volete essere reclutati per arc che qui a novembre io vedrò di reclutare questo e questo è tutto ragazzi per le novità vi ho detto praticamente tutto ricordatevi di andare a iscrivere al canale xmsr gaming che sarebbe dei trinity noi faremo video in italiano ragazzi magari anche qualche montaggio avemo due rossi uno di codino di multi gaming se a voi interessa farne parte vi ho detto appunto come fare c'è la community a face facebook e niente ragazzi io ho detto praticamente tutto adesso aspettate l'attimo che rompe il tiro a naruto che veramente pressa ovvero facile izzi izzi comunque ragazzi stavo facendo un torneo su questa sessione di naruto e niente ragazzi ricordate comunque ho notato molte richieste da giudamico sul mio account di gistraggio si vede che pubblicitare anche questo account ha fatto bene se volete continuare ad aggiungermi accetto tutto e niente ragazzi questo è tutto ci sentiamo nel prossimo video io scusate per l'inattività ma a novembre finirà tutta l'inattività non vi preoccupate quindi insomma restate sempre sintonizzati sul canale fregatevele dell'inattività perché comunque a novembre con arc in triniti vedrete vi faranno divertire parecchio già abbiamo dei membri quindi non vi preoccupate spero che il video vi sia piaciuto bella